No, ho visto che mi guardavi, ce mi vuoi dire qualcosa? No. No. Osservavo. C'è un bel ragazzo. Perché fai sfotti? Tanto lo sai, no? Che cosa, scusa, non ti stocca bene? Lo sai che io so, che lei sa, che sappiamo un po' tutti, no? È da quando ti sei seduto che cerchi di capire se so, se non so. Stai tranquillo, so, non c'è problema. Ma guarda che ti stai sbagliando. Non è così. Da quando mi sei seduto invece sto pensando un'altra cosa. Sto pensando, non so se la lauree d'accordo, sto pensando... Ma quando è che se ne va a questa rompicoglioni e ci lascia 5 minuti da soli? Questo stavo pensando, però era un pensiero, non è che era una cosa proprio... Bravo. Dobbiamo fare il salto di qualità, dobbiamo... Dobbiamo passare di livello, sì. Passare di livello. Che vuol dire? Dopo Avala, noi, la cazzata della non violenza ce l'ha dimentichata. La cazzata della non violenza... È una cazzata! La cazzata, però la cazzata sarà già capita, non mi sembra la malità. Ragazzi, non ci sottovalutate. Ma che è stata di? Infatti io vi ho portato questa da leggere molto attentamente. Soprattutto le ultime pagine. Bravo. Non bravo cosa. Andate a fanculo, ah! Grazie. 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 Grazie.